Ciao, bentornato sul canale di Stats4Bets. Nel video di oggi cominciamo a studiare la Serie A, anche se stasera c'è ancora da vedere l'Europa League, ma domani già ricomincia la Serie A, quindi cominciamo subito ad analizzare le prime partite del venerdì e del sabato. Qui, a fianco a me, ho cambiato una schermata rispetto a quella solita di entrata perché è stato stabilito un altro piccolo record di cui devo ovviamente ringraziare tutti quanti per il supporto e ne devo dare anche una prova effettiva perché altrimenti quando lo dico potrebbe sembrare che mi invento le cose. Allora, i miei tre libracci, che questi qui, Tipster Robot e Metodo Stats4Bets, sono effettivamente dei libri proprio fisici, oltre che eventualmente Kindle, e poi ho scritto un terzo libricino, questo è proprio un mini libro, fa parte della collana Pillole di Betting, quindi neanche l'ho creata la copia cartacea, si legge direttamente sul Kindle, sono stati primo, secondo e terzo nella classifica dei libri più venduti su Amazon. È capitato ovviamente che uno fosse primo, l'altro fosse secondo, però poi magari il terzo era ventesimo, cioè non era mai successo finora, o quantomeno io non me ne ero mai accorto, che fossero primo, secondo e terzo. tre su tre è stata una cosa veramente emozionante quando l'ho vista, e ci tenevo quindi a mostrarvela e a ringraziare assolutamente tutti per questo incredibile supporto. Questa è la schermata solida a cui siamo abituati, e quindi ci andiamo a prendere il superfoglio per vedere la Serie A, cosa ha da offrirci. domani si comincia già con Udinese-Cagliari e Torino-Como, poi c'è Napoli-Decce, Bologna-Milan e Atalanta-Verona. In questo video facciamo questi cinque match per arrivare fino al sabato. Nel video di domani ci facciamo tutti quelli della domenica, ovviamente spicca Inter-Juventus. Udinese-Cagliari, il Cagliari ha ribaltato quest'ultima partita e si è finalmente rimesso in carreggiata, o quantomeno ha ricominciato a fare punti in casa, perché era un po' che in casa non andava benissimo, come possiamo vedere con queste due sconfitte. L'Udinese all'ultimo secondo aveva strappato un punticino anche al Milan, poi dopo è stato annullato, c'è stata abbastanza maretta su questa cosa, gol fuori gioco, non fuori gioco, insomma, quelle classiche cose che poi ci si perde un sacco di tempo tra tifosi a discuterne, ma il fatto sta che se il VAR te lo annulla, te lo annulla. Cosa tirare fuori da questa partita? Allora, le statistiche sono piuttosto equilibrate, 43-28-28, c'è una lieve preferenza sull'Udinese, che in casa tra l'altro non va affatto male, perché tre delle quattro vittorie le ha fatte proprio in casa, però il Cagliari è un pochino ripartito e in trasferta, finora ha un andamento molto difficile da interpretare, 1-1-1. Quindi me la appoggerei sulla 1x per una maggiore cautela, però diciamo che c'è da tenere conto di quella quota in rialzo sull'Uno, quindi potrebbe significare qualcosa come no. Qui sono molto, molto sorpreso. Allora, il rialzo sul Toro è veramente importante, da 2 a 2,45. Veramente significativo il rialzo sul Torino. Il periodo del Torino è pessimo, tre sconfitte consecutive, di cui due per tre, anzi tutte tre per tre a due, quindi sta prendendo una barca di gol, anche l'ultima che aveva vinto, ne aveva comunque presi due, è ovviamente una disgrazia, perché io quest'anno ho scelto Milinkovic come portiere, e sta prendendo praticamente una media di due, se non più gol a partita, e il Como invece si è dimostrato in più di un'occasione squadra veramente pericolosa, complicata. Sono onestamente sorpreso di vedere una statistica di questo genere, in cui c'è più alto l'1,2 della 1X, cioè è la possibilità che il Como faccia qualcosa di sorprendente, lo troviamo in due risultati su tre, perché in due risultati su tre troviamo il gol del Como, tanto è inaffidabile la difesa del Torino in questo momento. C'è la metrica della forbice, però poi le quote si spostano sull'Anders, se andiamo a vedere il gol è in forte rialzo, da 1,66 a 1,80, e l'over che partiva come favorito è in forte rialzo anche l'over, e si passa da 1,80 a 2,10, diventa favorito l'under. È veramente strana come condizione, perché sì, il Toro ha messo in casella delle sconfitte un po' sorprendenti, ma è strano vederlo così sfavorito, sinceramente mi sorprende. Io mi mantengo sulla 1X, non lo so, non riesco a capire perché il Toro venga visto così tanto sfavorito, o eventualmente, se proprio dobbiamo andare a cercare un rischio, io metterei l'esito gol, perché almeno un gol del Torino me lo immagino, sì, è vero, si è fatto male Zapata, però, insomma, non lo so, è strana questa negatività verso il Torino da parte dei bookmaker. Napoli Lecce, qua c'è poco da chiacchierare, se andate sul canale Telegram, su questa trovate una quota maggiorata veramente regalata. Io, se seguite un pochino il canale Telegram, sono abituato ormai a valutare le maggiorate, non solo proponendo la maggiorata, clicca qui e vai sulla maggiorata, ma anche cercando di analizzare, analizzare i numeri, analizzare i dati, analizzare il perché di quella maggiorata, e le ho divise in maggiorata rischiosa, quando secondo me c'è qualcosa che non quadra, maggiorata a medio rischio, quando è probabile, però comunque è una partita un po' complicata, oppure questa, come quelle di questo genere, sono le classiche maggiorate regalate, cioè quella in cui il bookmaker veramente vuole assolutamente che vinci la maggiorata, perché le maggiorate sono bonus, non è che sono soldi che ti puoi mettere in tasca, quindi perché il bookmaker vuole che la vinci? Perché almeno cominci a sfruttare quel bonus su di lui, e magari cambi il bookmaker, e invece di utilizzare XY, sfrutti il bonus, e piano piano il tuo bookmaker di riferimento diventa XX. Questa è l'ottica delle maggiorate. E questa è proprio una maggiorata regalata, perché la 1X, che arriva al 92%, viene pagata a quota 5. Se consideriamo che il bookmaker normale ci paga l'1, 1,30, non sono soldi reali, immediati, sono bonus, vanno rigiocati, però comunque è un bonus a quota 5, su una quota che altrimenti sarebbe 1,01. Quindi vince il Napoli, per me ovviamente, c'è poco a stare a chiacchierare, ma sul canale Telegram ci si trova anche questa maggiorata. Bologna-Milan, match... complicato. Complicato lo vediamo dall'intelligenza artificiale e anche dai dati. Complicato perché il Milan, anche contro l'Udinese, ha rischiato, ha rischiato forte, contro il Bruges, ha semi-rischiato, fino a che il Bruges è stato in 11, l'ha fatto soffrire. Sembra un Milan in ripresa, ma ci sono dei giocatori veramente inguardabili, Loftuzic, Leao, stanno vivendo un momento fortemente negativo, quindi ha un Milan che parte avvantaggiato, è avvantaggiato anche dal punto di vista delle statistiche, il 73%, ma non è un Milan che mi fa dire giochiamo il 2 secco del Milan, non ci sono i dati per puntare sul 2 secco del Milan. Anche il Bologna non è che sta facendo questa grande stagione, soprattutto in campionato, non che in Champions stia facendo una bella stagione, ne perde sempre, però almeno offre delle prestazioni un pochino migliori. In campionato, anche qui, in vantaggio 2-0 col Genova, si è fatta rimontare, non ha battuto il Parma, non ha battuto il Como, cioè ha avuto diverse battute dal resto. Il Milan, se facciamo eccezione di quel caos rigori a Firenze, bene o male non si può neanche dire che sia un brutto Milan, quindi secondo me si sposta un pochino sulla X2, c'è questo rialzo, non mi fido troppo del 2 secco del Milan, però ci può stare, la X2 ci può stare. E poi abbiamo un'altra partita, secondo me, che non racconterà grandi cose, ossia, mi immagino assolutamente la vittoria dell'Atalanta, che già anche contro il Celtic meritava di vincere, ha fatto 22 tiri, 23 tiri, preso la traversa, ha mangiato a gol, quindi è un'Atalanta che in questo momento non sembra avere freni, il Verona ha anche perso sorprendentemente contro il Monza, quindi mi ha lasciato un po' stupito la partita col Monza, io se vi ricordate avevo detto che invece mi sarei aspettato anche una vittoria a sorpresa del Verona, a sorpresa perché stava salendo di quota, invece ha fatto una pessima prestazione e nell'ultimo periodo si attesta comunque con pessime prestazioni, al di là della vittoria col Venezia, quindi questa vince l'Atalanta, secondo me, senza grossi bisogni di analisi o chissà quale valutazione che sia necessaria. Per questo video direi che è tutto, ci vediamo domani con il prossimo video in cui analizziamo tutte le partite della domenica, come al solito, se ti è piaciuto, lascia un like.